Finché la matematica non ci condanna e questo è il pensiero, in casa l'Aquila, dall'altra parte divertimento e spettacolo per puntare il secondo posto con De Eugenio che punta alla riconferma. Al Petruzzi di Città Sant'Angelo, Angolana e l'Aquila si affrontano per la penultima giornata di campionato. De Eugenio lascia inizialmente in panchina Criscolo, Farias e Pantoni dal primo minuto. L'Aquila senza i match winner dell'andata, Bisegna e Di Paolo con Di Federico davanti, Enric in difesa, in luogo di Altares e Diaz. Pronti e via i nerazzurri passano, corner al bacio di Di Renzo per la testa di Farias che insacca per l'1-0 e biss la rete di domenica scorsa contro il Delfino Flaccoporto. L'Aquila impiega del tempo per ingranare, lo fa ma deve scontrarsi con un super puddu. Al ventiduesimo Crass libera Pellecchia, risponde con i piedi l'estremo locale, poi i cattalli da fuori, palla out. Al ventinovesimo Di Federico prolunga la sfera per Miciche che di destro trova ancora la super risposta di puddu che si supera anche sul successivo mancino di Pellecchia. Farias ci riprova in un'azione fotocopia del vantaggio, testa out. Prima dello scadere una doppia occasione sui piedi di Miciche al 44 e al 46esimo, ancora però la risposta dell'estremo locale e poi Miani in contropiede non riesce a colpire. Nella ripresa Casati deve ribattere sulla linea un tocco di Pellecchia ma dall'altra parte precisamente al 61esimo, dopo un'azione concitata di Giovanni Pennella per Miani che di testa. Iscrive il 2-0, l'Aquila sembra perdere la testa, Miciche e Lenart ci provano con due conclusioni da fuori, entrambe appunto out. Poi dal 39esimo cambia tutto, Maisto raccoglie uno spiovente, si presenta tu per tu con puddu e fa 2-1. Non passa neanche un minuto che Cas dalla sinistra trova Miciche, tocco sul primo palo ad anticipare tutti e palla in rete. Rimonta che si conclude qui, neanche per sogno perché al 42esimo cross di Pellecchia deviato che va a favorire ancora Maisto che da due passi non può sbagliare. E sorpasso completato, 3-2 e l'Aquila che trova 3 punti ormai inaspettati. Angolana rimasta in 10 nel finale del match per il doppio giallo recapitato a Diop che deve assolutamente cercare di correggere questi errori di disattenzione.